Il ritmo regolare del trotto è rassicurante. Si può andare senza mani, come quando si è bravi in bicicletta. L'equitazione è uno sport educativo anche moralmente. Mette a contatto con un animale generoso come il cavallo. E tu come galoppi bene? Sei bravo quanto il tuo fratello maggiore. E poi non c'è differenza, tutti e due galoppate a spese di papà. E poi non c'è differenza. E poi non c'è differenza.